Musica Emergenza idrica, cittadini e associazioni si mobilitano. Di sesto provvidenziale, il comune recupera 30 milioni di euro. La parrocchia compie 90 anni, riapre la chiesa di San Domenico. Benvenuti all'edizione di Quilicata Tg di oggi, 28 giugno 2024. Il 1 luglio si riunirà a Licata il Consiglio Comunale aperto per affrontare la questione dell'emergenza idrica. Intanto, cittadini e associazioni si mobilitano per far sentire la propria voce. Vediamo. Musica La mobilitazione per l'acqua ormai non riguarda più soltanto Licata, ma l'intera provincia di Agrigento. Ieri in tanti sono scesi in piazza a Canicattì per protestare, per far sentire la propria voce, ribadendo che questa è una condizione che non può durare. Di fatto non ci si può più lavare. E l'appello ai licatesi è arrivato anche da Gianluca Mantia e Giovanni Chianta, rispettivamente rappresentanti delle associazioni Licata Bene Comune e Coltivazione Tunnel Serre all'aperto, ma anche da parte del Comitato Civico della Playa. L'appello a tutti è quello di partecipare al Consiglio Comunale del 1 luglio, il Consiglio Comunale aperto al pubblico, convocato dal Presidente Anna Triglia, al quale sono stati invitati a partecipare, tra gli altri, i rappresentanti di Sicilia Acqua e dell'AICA, la Prefettura, i sindaci del circondario e ovviamente tutte le associazioni che a vario titolo si occupano della questione. Chianta e Mantia rivolgono l'appello a tutti alla partecipazione e fanno tutta una serie di proposte che ribadiranno in aula il 1 luglio. E da Ravanusa il sindaco Salvatore Pitrola ha annunciato di aver ottenuto dal genio civile di Agrigento la riapertura di due pozzi prossimi al centro abitato non più utilizzati ormai da 30 anni. Si tratta di un modo per affrontare l'emergenza idrica. Ed a proposito di acqua, i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Restart di Licata hanno annunciato che da lunedì prossimo, 1 luglio, giorno in cui si riunisce il Consiglio Comunale aperto, organizzeranno un sit-in davanti al municipio di Piazza Carmine per sensibilizzare, scrivono, il Governo regionale. Il sindaco Angelo Balsamo, intervenendo sul dissesto finanziario che il Comune ha approvato il 6 marzo scorso, ha annunciato che grazie a quell'iniziativa si sono sbloccati 30 milioni di euro per garantire i servizi. Ascoltiamolo. Queste somme che adesso sono totalmente state liberalizzate, unitamente alle altre somme che competono al Comune dedicata per il 2024, saranno incassate dalla nostra amministrazione, in parte già incassate e in parte saranno incassate successivamente, per far fronte a tutti i debiti già contratti. Parte di queste somme appartengono agli anni precedenti, 2021-2022, e quindi dovrebbero essere di competenza dell'OSLO, l'organismo speciale di liquidazione. In parte potranno essere direttamente utilizzate dall'amministrazione, secondo determinati accorgimenti giuridici e contabili, che ci consentiranno di venire incontro, in modo particolare, alle cooperative che hanno erogato il servizio Asacom e altri servizi sociali, e così riusciremo a dare un po' di tranquillità a tutte queste associazioni. Fondamentale è quello che è il messaggio che io voglio che arrivi ai miei concittadini. Le azioni che abbiamo posto in essere sono azioni che vanno nella direzione di restituire la normalità alla nostra amministrazione, la normalità e la legalità alla nostra città. Il primo di luglio riaprirà, dopo i lavori di restauro, la Chiesa di San Domenico, allicata, retta dal vicario foraneo Don Tommaso Pace. Sarà l'arcivescovo metropolita di Agrigento, Alessandro Damiano, a presiedere la concelebrazione religiosa. La riapertura della Chiesa, tra l'altro, coincide con i festeggiamenti per i 90 anni della parrocchia. A 13 anni dalla Frana hanno preso il via Acciotta, frazione di Palma di Montechiaro, i lavori di ripristino della strada che collegherà questa località di mare col Marina di Palma. A posare la prima pietra è stato il sindaco Stefano Castellino. Vediamo l'intervista. Oggi è il giorno dell'inizio concreto dei lavori e ringraziamo tutti i soggetti coinvolti. Il crollo di questa viabilità, oltre a creare un danno a chi è direttamente coinvolto, ha creato un danno enorme alla frazione di Giotta, perché impedendo il collegamento con l'altra frazione balneare, che è quella di Marina di Palma, vi è stato un depreciamento evidentemente dei valori degli immobili e dei terreni e la impossibilità, perché io ero un ragazzino e qui venivamo a passeggiare. Qui c'era un locale dove era possibile anche mangiare qualcosa ed era un punto vivo. Da un punto vivo, 13 anni fa, è diventato un punto morto. Voi vedete che addirittura la terra e gli alberi avevano invaso la carreggiata. Siamo convinti che rispetteremo i tempi di realizzazione e lì dobbiamo essere tutti bravi affinché queste opere possano concludersi nei tempi previsti e consentire non solo la riapertura di questa importante arteria, ma anche, perché no, creare le condizioni perché questa possa diventare, non solo questa, ma anche la viabilità qui parallela, un lungomare dove poter godere di questo meraviglioso mare. Perché, diciamocelo chiaramente, se la Movida è a Marina di Palma, il bagno, i palmesi e i turisti lo fanno a Ciotta. E quindi dobbiamo fare in modo che questa località riprenda il posto che merita. Ego Green sbarca anche a Porto Empedocle. Dopo Siculiana è stata aperta anche nella città marinara una filiale della società che si occupa di energie e gas, di cui è titolare l'imprenditore e mecenate licatese Marcello Giavarini. Le prossime filiali di Ego Green saranno aperte ad Agrigento e Canicattì. L'ASP di Agrigento ha attivato le COT, centrali operative territoriali, strutture che hanno il compito di assicurare continuità, accessibilità e integrazione di cura e assistenza. Una è stata aperta anche a Licata. Giuseppe Catpodieci, manager dell'ASP, ha presentato la nuova iniziativa. Vediamo l'intervista di Irene Milisenda. Le COT sono dei servizi interni alla nostra azienda, non sono aperte al pubblico. Praticamente sono delle strutture che servono da cerniera fra l'assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale. Cioè riusciranno a garantire al cittadino il fatto che si possa domani, subito dopo il ricovero, poter godere di tutte quelle che sono i servizi della nostra azienda. Faccio un esempio. Un cittadino che è ricoverato in ortopedia con una frattura di femore, subito dopo può poter godere dell'assistenza domiciliare, di riabilitazione domiciliare, oppure essere ricoverato presso strutture di riabilitazione convenzionate con la nostra azienda. Benissimo. Tutto questo viene guidato attraverso le COT. Quindi il cittadino non viene lasciato solo a decidere dove andare. Decide in libera scelta, però viene guidato attraverso un infermiere che in maniera telefonicamente lo chiama, telefonicamente lo consiglia e ha davanti tutta una piattaforma informatica con tutti i servizi dell'azienda. Cosa che finora era soltanto settoriale. C'era quello che si interessava solo dell'ospedale, l'ufficio si interessava solo della specialistica ambulatoriale, l'ufficio si interessava solo delle vaccinazioni, eccetera. la COT è una sorta di piattaforma informatica gestita da infermieri a disposizione telefonicamente del cittadino e dell'utenza che mette in condizione il cittadino di poter godere di tutto il servizio dall'inizio alla fine dell'assistenza. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione di Quilicata Tg. Quilicata Tg.